Ben ritrovati e ben ritrovate da Andrea Cartotto. Siamo al termine dell'anno scolastico, siamo anche dentro l'estate, eppure in questi tempi un pochino particolari, ed è più probabile maneggiare foto. Foto di fine anno, foto di ricordi, foto che scattiamo in sicurezza anche di luoghi e di ciò che ci sta a cuore. Bene, vediamo in pochissimi passaggi, con il grande programma Photor, in questo caso la versione installata per sistema operativo Windows, come apporre facilmente alla nostra foto una firma o una bella filigrana che la attraversi, magari trasparente, il cosiddetto watermark. Di Photor ho già parlato qui nel mio canale youtube.com slash trainer Andrea, a proposito della versione online. Nella nostra versione installata, facendo a due clic sull'icona, io ho tre voci e in questo caso clicco su edit. Lo ricordo, Photor è un programma, multipiattaforma, veramente lo possiamo usare dove vogliamo, sito di riferimento www.photor.com, guardate i pochissimi passaggi. Un clic sullo start al centro. Poi vado a cliccare sulla mia cartellina di origine, qualunque essa sia. Ho preparato, vedete, una foto ben augurante ed estiva di una spiaggia. La clicco e un clic su apri. A parte gli splendidi menu che ci consentono di apportare piccoli ritocchi alla foto con una grande facilità, ma io vi ho parlato di firma o di filigrana e allora vado dritto sulla tv text. Un clic tasto sinistro del mouse. Guardate, posso personalizzare la mia firma o filigrana scegliendo il tipo di font, cioè il tipo di carattere. La grandezza del font, in questo caso insomma la grandezza, un corpo un pochino importante, 36. Lasciamo pure il colore bianco. Clicco add text a destra. Guardate, riquadro pronto. In realtà a questo punto io vado a mettere la mia firma, Andrea Cartotto 2020, e guardate la semplicità. Io in realtà con questa maniglia di angolo, la mia freccia ricurva, faccio tutto. Con il tasto sinistro del mouse premuto, ingrandisco ma nel contempo se mi muovo, vado a creare una filigrana che attraversi ad esempio l'intera foto. Ecco, però è molto visibile, dà quasi fastidio, così bianca con un colore pieno. Perfetto, ed ecco che abbiamo due interruttori veramente interessanti. Allora, primo interruttore in inglese, ma lo traduciamo con facilità, shadow, ci consente, guardate un pochino, di scorrere ed ottenere una scritta in 3D con tanto di ombreggiatura. Mentre questo interruttore opacity, tasto sinistro premuto, chiaramente lo scorriamo come vogliamo, guardate cosa fa se io lo porto verso sinistra, ci consente di rendere la nostra firma una vera e propria filigrana detta anche appunto watermark. Se questa fosse una foto di classe o la foto di un'attività didattica, io dovessi pubblicarla sul sito dell'istituto o altrove, preservandone la fonte, quindi la provenienza dalla nostra macchina fotografica o dal nostro smartphone, oppure io dovessi indicare il nome della classe, è veramente la risorsa che fa per noi. Guardate, io clicco e comodamente con il tasto gomma sopra l'invio, il tasto cance, ho tolto il mio nome ed ora vado a digitare classe terza A, mazzini ad esempio, rendiamola un pochino più visibile, per cui tasto sinistro premuto e vado a scorrere e guardate, ecco qui, pronta la nostra foto con filigrana. Non ci resta che esportarla, cioè salvarla, seguitemi, andiamo completamente a destra in fondo su export, un clic, e poi andiamo su save to computer, clic. Benissimo, se siamo pigri addirittura non serve rinominarla, perché Photor prende il nome originario dell'immagine ed aggiunge il nome del programma, dunque mare-Photor. Scegliamo con questo tasto browse, cioè sfoglia, dove vogliamo salvare la nostra foto, ad esempio posso lasciare il desktop, addirittura potrei, ridimensionarla in proporzione semplicemente variando quei numeri, che sono i pixel, cioè i punti di colore per larghezza ed altezza. Se scelgo un formato JPEG o addirittura tre varianti circa la qualità, ma io consiglio, come ho fatto anche in altre circostanze, il formato PNG per una maggiore qualità visiva e di stampa. Bene, siamo pronti, non ci resta che salvare, con un clic sul pulsante azzurro, save photo, e dopo alcuni secondi di elaborazione avremo la conferma, con la spunta verde, dell'avvenuta operazione di salvataggio, saved successfully. Con un clic su ok, il nostro lavoro è terminato e sulla nostra scrivania, mia, cioè sul desktop, abbiamo la nostra foto elaborata, pronta per essere utilizzata e condivisa. Bene, lascio a voi la prova pratica su strada, ed ancora un caro saluto da Andrea Cartotto e appuntamento per i prossimi videocorsi.